Benvenuti a questa edizione del TGNO. Si cercano i responsabili che hanno consegnato il padiglione siciliano all'Expo di Milano in condizioni precarie. Infatti era allagato tra la spazzatura ed era parzialmente completo. I ingegneri si giustificano dicendo abbiamo ricreato una parte della vostra terra ma non era precisa Sicilia? Andiamo con il primo dei nostri quotidiani. Il simeto sera apre così Expo 2015. Il padiglione Sicilia allagato tra la spazzatura e senza segnaletica. Se solo cedesse un bilone sarebbe come essere a casa. La fotografia centrale fa vedere una serie di co-co-co di ragazzi che sono andati a lavorare per l'Expo. Infatti chi è vestito da unguria, chi da cetriolo, chi da pera. In ogni caso dei ragazzi che sono ormai ridotti alla frutta. Andiamo al secondo nostro quotidiano Il Faglio. Come pioveva Milano si atteggia alla Catania del Nord, al padiglione Sicilia, inaugurazione con il successo musicale dei Beans. Rientriamo in studio. Il TG No finisce qui ma per digerire bene questa edizione si può ascoltare Piove di Giovanotti. Grazie a tutti.